E la festa sempre viva è, se lo dai, se dai, se regali il tuo cuore la gioia avrai, se lo dai, se dai. Uniti senza barriere, il 18 marzo 2017 incontra al Mandela Forum di Firenze l'esperienza artistica del gel rosso in un evento in cui protagonista è l'arte del musical aperta a tutti. Il gel rosso, gruppo musicale internazionale del Movimento dei Focolari, mette in scena il musical campus, l'intreccio di storie dentro a un campus universitario. Uniti senza barriere nasce nel 2016 da un'idea di più persone provenienti da più associazioni che lavorano nel mondo della disabilità. Gel rosso perché gel rosso è il sogno dei nostri ragazzi e quindi noi abbiamo voluto coronare questo sogno, un musical insieme a loro. Una grande amica nostra, Antonia, lei ha visto questo progetto che facevamo già prima con un altro musical che facciamo anche, che inseriamo i giovani, dei studenti, e ci ha pensato e poi ha suggerito e poi mi ha detto sì, certo, possiamo farlo anche con loro, no? Quindi c'è stata una sinergia, no? Da questa associazione e anche con quello che facevamo già prima, quindi c'è stato un esposalizzo felice. E siamo felici di farlo, veramente. I ragazzi stanno già lavorando da più mesi su quattro canzoni che il gel rosso ci ha detto e parteciperanno attivamente, canteranno, balleranno, reciteranno insieme a loro, rendendo il musical campus un musical inclusivo. Una cosa che non si è mai vista, soprattutto nel giro del musical fiorentino. Guarda in alto umanità, vola in alto e poi discendi, lana sulle tue città, risaliamo tutti insieme.